Sisma 2016, 1.400 cantieri autorizzati per 250 milioni di euro. A tre anni di distanza dall'insediamento dell'Aggiunta regionale, il presidente Marco Marsilio e il direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Sisma 2016, Vincenzo Rivera, all'Aquila hanno presentato il consuntivo 2021 sulla ricostruzione. L'anno si è chiuso con un incremento percentuale del 256% rispetto ai dati dell'anno precedente, consentendo alla regione Abruzzo di abbandonare l'ultima posizione tra le quattro regioni coinvolte dal sisma. Si tratta del più alto incremento percentuale dell'intero cratere dell'Appennino centrale, che ha portato il numero dei cantieri autorizzati ad oltre 1.400 per complessivi 250 milioni di euro concessi.